Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono il Stevie ed oggi siamo in un nuovissimo vlog dove rispondo a tutte le vostre domande e tutte le challenge che mi proponete Bando alle ciance e cominciamo subito Ragazzi la prima domanda ce la fa Marinella Kumo Stevie questions, in ogni vlog puoi fare la musica time dove inserisci una delle musiche che ti piace molto? Ok, questa è una cosa che la farò ma non in questo vlog Adesso passiamo alle freddure, barzellette, sono 5 Ok, vediamo questa qua che ci ha detto Primo, lo sai perché i pesci hanno le spine? Perché nel mare c'è corrente Cioè queste battute infelici Io non lo so Ma se noi gradiamo, le stelle esprimono un desiderio Terzo, lo sai perché le partite di tennis sono sempre divertenti? Perché fanno molte battute 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 Quarta, ma meno male che stanno a finire queste cose perché già mi sto a rabbia Vuoi una caramella? No, sono legno di abete Cioè io sono senza parole Poi passiamo alla quinta Ieri ho comprato una chitarra nuova Ma che marca? Me la sono scordata Ok ragazzi, me la sono Spero che le battute ti piacciono Anche se la mia idea Vorrei che mi mettessi nel prossimo vlog Fumo Eccola qui Molto carina Eccola qua Vabbè, ciao Marina alla fumo Nahin Hammed Perché sei così brava? Perché su City Show? Ecco perché Ma che c'è? Adesso mi dite la risposta Voglio una risposta da voi Poi Cosa? Amanti Tipi questions Da Cicerog03 Challenge Urla dalla finestra cosa pensi dei tuoi iscritti Domanda Sei fidanzata? No, sono singola vita Balcone Valerà Ah, ma i miei iscritti Giulia Panzin 03 Ci scrive Sivi questions Mangia un Wuster Con del miele E per la challenge Blind Food Challenge Allora ragazzi Questa cosa la potrò inserire nella challenge Ehm Questa challenge Uscirà con Elena Credo Elena se stai guardando questo video Accetta assolutamente la mia proposta E quindi farò uscire questa challenge Poi Alice Bacco Fai la challenge Prova a non ridere Questa challenge ragazzi farò Faremo così Forse una settimana Potrei fare la settimana delle challenge Dove usciranno soltanto challenge Quindi adesso mi piacciono Sia la Blind Food Challenge Sia quella Prova a non ridere Sivi questions Da Asia Micchetti Hai animali? Che scuola frequenti? Challenge Fai la 7 second challenge Ok La challenge la faccio Hai animali? Sì Ho un cane L'ho pure fatto vedere Nella parodia del mulino bianco Che scuola frequenti? La seconda media Elena Malavasi Malavasi Scusa Però il cognome fa ridere Sivi questions Perché hai aperto il canale? Allora il canale L'ho aperto perché Io Mi piace tanto scherzare Infatti molti amici Lo sanno Tutti lo sanno E quindi Mi piaceva condividere queste cose Con tutto il mondo E la piattaforma con cui Appunto potevo Fare queste cose Era appunto Youtube E Per questo ragazzi Io ho voluto Aprire Appunto Questo mio canale E fare Questi tipo di video Perché tipo Adesso ho scelto Ad esempio Avendo finalmente Il computer Avendo finalmente Il computer Potrei fare anche Un secondo canale Che aprirà A presto Spero Credo lo so Che tratterà appunto Di videogiochi Più che altro Minecraft E queste cose qui Repira Zero 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 Si è scritto Però ok Fai la Gymnastic challenge Elena se stai guardando Questo video E noi faremo tutte queste challenge Perché te lo sai Poi sempre Lei ci chiede Sivi questions Che youtuber segui Allora io ne ho diversi Ad esempio Surreal Power Stepney Famigie Vabbè Quello ormai Mezzomondo Cookies Vantellas Che sta Gente qua Vegas Anima E questi qua Si schiede Sweet Tumblr Sivi questions Sivi Primo Da dove prendi L'ispirazione Per i tuoi bellissimi video Secondo Fai un vlog In cui ci fai vedere La tua casa Allora Siccome non sto A casa mia Infatti sono entrata Perché sono un ladro Sono venuta a prendere qualcosa Ma non ho trovato niente Perché non c'è niente In questa casa Lo farò Questo video Dove farò vedere Tutta la casa mia Lo so Non c'è niente a vedere Perché anche perché Non è enorme Tipo non è 80 Piani No Vabbè Comunque Rispondi a una prima domanda Allora L'ispirazione I miei video Già l'ho detto In qualche vlog Fa Però se non l'hai visti Io ad esempio Le cose che mi succedono In classe Le cose che mi succedono A scuola Le cose che immagino Cioè tutte le cose Più divertenti Mi passano Per questa bella Tittolina Io le faccio Le metto nei video Poi My life 2312 2312 Quanti anni hai Che youtuber segui Fa il tag 100 domande Allora Youtuber segui Già l'ho detto Poi Quanti anni hai Adesso dovrei fare 13 anni Fa il tag 100 domande Sì questa qua La farò Al più presto possibile Poi Andra No selfie Selfie Poi Stevie questions Qual è Il tuo amore impossibile Che scuola frequenti Prima Seconda Terza Fai un video Con Un tipo Con tipo Un fiorno Ah Tipo un giorno Senza mangiare O così Provi il gioco Akinator In diretta Allora Adesso in diretta Non lo posso fare Anche perché Cioè mi serve Solo l'iPhone Per appunto Vedere le domande Però lo farò Questa cosa Non vi preoccupate Potrei fare anche Una live Dove faccio appunto Akinator E Nessun amore Perché sono Singola vita Poi Scuola frequenti Seconda media Potrei fare la terza Se non vengo Inbizzata E Poi Sempre È una malabasi Ci chiede Di No niente Giulia Capitelli Silvia ti piace Deve doppiare La voce Peppa Pig No no Aspetta Ma davvero Mi fa mandare Cioè Ma davvero Mi stai ideando Se vuoi doppiare La voce Peppa Pig Ma certo Che la vuoi doppiare Poi Danila Danila Asr Calcio Silvi Puoi salutarmi Nel tuo video Sono Danila Sandra Giacometti Ciao Danila Sandra Giacometti Poi Giulia Capitelli Sempre Chiede A Silvia Mi puoi citare Sì come si chiamano Sì Ho un cane Si chiama Sara È una bigalina Poi Repiria 05 Ci chiede Qual è il tuo film preferito Mi saluti Adesso che tu sei famosa È cambiata la tua vita Entendo per strada Di chiedendo di far foto Allora Mi è successo Qualche giorno fa Questa cosa Delle foto E cose del genere Guarda Non è che è cambiata La mia vita Però vabbè Non è che mi sento Più popolare Oppure dico No Guarda Io sono Piore Che ho tempo Popolare Su VIP No Non è cambiato Niente Sono sentata Alcune volte La gente fa No No Non sono io Poi Poi Barbaras Mari Ci chiede Che sport fai? Faccio breakdance Ho anche praticato Muoto E karate Fan De Watcho 20 Stevie Show Sì Ah Stevie Show Adori i tuoi fan Chi è la tua migliore amica? Ti piace VJ? Ti vesti per mio? Ma scrivete Fai la challenge Dell'Emjoy Vedi Disney Channel Mi saluti Sei fantastica Ciao Ad Ciao Ciao Wad Wad Scusa se Non ho pronunciato Bene il tuo nome Allora Adoro i miei fan Certo che vi adoro No guarda Vi odio Non vi sopporto Vedi Certo che vi adoro Anche perché Chi è che si mette A urlare A miei miei fan Dalla finestra Chi è la tua Migliore amica? Allora La mia migliore amica Si chiama Laura Ciao Laura Ti saluto Un grande bacio Ti piace Fai VJ? Ovvio che mi piace Ti vesti per mio Io maschile Femminile Non sono un uomo Non sono un uomo Sono una donna Fai la challenge Dell'Emjoy Questa qua È molto carina Come challenge Alla fine All'inizio Non l'avevo ben capita Perché già le stavo leggendo Prima le domande Non l'avevo ben capita Infatti ho fatto una ricerca Su Youtube Ho visto qualcosa Carina Questa qua Elena Facciamo tutte le social Tutte insieme Vedi Disney Channel No Da poco Ho smesso di vederle Più che altro Se vuoi Real time Mi saluti Già T'ho salutata E quindi Ciao Ciao Vabbè Sempre lei Basta Sei fantastica Grazie Donna Mora Siri West Quale serie di Disney Channel Se lo vedi Ti piace Mi saluti Sei fantastica Ciao Donna Mora No Non vado alle elementari Vado alle medie Seconda media Già l'ho detta 40 volte Credo che ormai L'hai capito Quale serie su Disney Channel Ti piace Allora 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 Mi piace Live e Medi Mi saluti Già t'ho salutata Però ti saluta la seconda volta Perché sono troppo brava Donna Mora Ciao Sei fantastica Grazie Funny with Youtubers Raduni Conosci dei Youtuber famosi dal vivo? Se sì Quale PS Salutimi Please Ciao Funny with Youtubers Allora Raduni Sì Ne farò una ad ottobre Non vi dirò Quando Perché vi vuole Nelle sue spine Conosci dei Youtuber famosi dal vivo? Sì Conosco Golden Jumpy Surreal Power I Crookids Nas e tutti questi Anima Vegas Stepney E loro Che sta andando a tra Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Dove rispondo a tutte le vostre domandine Bene ragazzi Vabbè Prima di concludere il video Volevo farmi una semplice domanda Che ho anche fatto Su Instagram Questa domanda sarebbe Se io aprissi un punto vostro Vi invierete qualcosa O rimarrà proprio con le ragnadelle Il muro I ragni I topi E tutto quanto Cioè Ditemelo voi Perché io Personalmente lo vorrei aprire Perché mi parebbe davvero piacere Ricevere le vostre lette Quindi sapete Se davvero il mio canale vi piace Se i miei video vi piacciono Se siete partecipi Cioè Se ci siete In poche parole Nel canale Quindi ragazzi Vi faccio questa domanda Scrivete qui sotto Con un commento Oppure Direttamente Su Instagram O su Facebook Quindi Vi invierete qualcosa Se aprissi un punto post Domanda Adesso facciamo così Ogni domani Quando faccio un vlog Ci sarà Una domanda La domanda Di Sivi ai fan Si chiamerà Domanda Sivi Questa domanda Sivi Appunto Sarebbe Questa qua Ho appena detto Z300 Se aprissi un punto post Mi invierete qualcosa Rimarrà a vuoto Bene ragazzi Dopo questo Spero che il video vi sia piaciuto Spero che al prossimo vlog Anche voi Scrivete anche qua sotto Con un commento Con l'hashtag SiviQuestions Per la prossima domenica Per un prossimo vlog Per tutte le cose possibili Quindi lasciate like A questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Commentate qui sotto Su Facebook Con l'hashtag SiviQuestions Per il prossimo vlog Poi ragazzi Condividete questo video Fatelo sapere ai vostri amici Della mia esistenza Per tutto il web Poi Seguitemi su Instagram Su Facebook Tutti i link Stanno qui sotto In descrizione Se volete acquistare Qualche oggette 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 Che avete visto Nel video Tag Follie Oggetti strani I prezzi I prezzi Stanno qui sotto In descrizione Contattatevi Su Facebook Come profilo privato Silvio Oliver Oppure sulla pagina Facebook Sivi Quella lì E niente ragazzi Noi ci vediamo E un prossimo video Ave Senti Mi spieghi cosa vuoi Cosa vuoi Questa è casa mia Che vuoi tu Ah scusa Vabbè vado via Vabbè vado via Vabbè vado via